Scopriamo insieme la frutta Alto Adige. Garantiamo che i piccoli frutti e la frutta a nocciolo con il marchio di qualità Alto Adige siano veramente cresciuti in Alto Adige e che vengano osservati i più rigorosi criteri di qualità. Per questo ci affidiamo ad un ente di controllo indipendente che certifica regolarmente aziende e prodotti. In Alto Adige, i piccoli frutti e la frutta a nocciolo crescono tra i 500 e i 1800 metri di altezza. Nel frizzante clima di montagna, i frutti maturano lentamente e grazie all'esposizione al sole e agli sbalzi termici tra giorno e notte sviluppano appieno il loro sapore. Quando raggiungono la misura desiderata e un preciso grado di dolcezza vengono raccolti a mano e messi in commercio freschissimi. Per gustare al meglio il sapore dei frutti si consiglia di sciacquarli delicatamente in acqua con fogli e piccioli ancora attaccati e di consumarli possibilmente freschi. Per cinque mesi, da giugno a metà ottobre, i mercati locali vengono riforniti di frutta fresca come fragole, lamponi, albicocche e ciliegie. Questa è la frutta Alto Adige. Marchio di qualità Alto Adige. Provenienza garantita e qualità controllata. www.piccolifruttialtoadige.com www.fruttaannoccioloaltoadige.com www.pritar axis.com